Viaggia sui social, la nuova criminalità organizzata, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Un linguaggio che è lo stesso delle nuove generazioni, quelle che ascoltano la trepe e i neomelodici, che usano gli emoticon a forma di cuore, di leone o di fiamma per commentare post, che usano hashtag per farsi trovare subito nella rete. È il volto delle mafie nell'era digitale, così come lo racconta il rapporto presentato alla Camera della Fondazione Magna Grecia. Le mafie cambiano come cambia la società di oggi. Quindi quella che oggi la società è informatizzata, la società che ama la bella vita, che ama il lusso, lo sfarzo, stesso modo vivono oggi le mafie. Oltre ai 20.000 commenti a video su YouTube, quasi 12.000 video visionati su TikTok, 2 milioni e mezzo di tweet passati a setaccio per delineare la figura del nuovo boss che si travesse da influencer e veicola i contenuti mafiosi che ieri erano affidati ai pizzini attraverso i nuovi linguaggi dei social. Così le piattaforme diventano una specie di radar per intercettare affigliati e nemici da sostenere o colpire, con il confine tra reale e virtuale che diventa sempre più labile, perché le mafie hanno sempre la capacità di reinventarsi in base alle esigenze del presente, dicono i curatori del rapporto, presentato nel giorno della memoria delle vittime del terrorismo, celebrato 9 maggio, giorno in cui nel 1978 non solo fu ritrovato in via Caetani il corpo di Aldo Moro, ma anche a Cinisi, Cosa Nostra, assassinava il giornalista Peppino Impastato. Le mafie non sono dei marziani, non sono un corpo istrano della società, sono il prodotto di questa società, sono il prodotto del contemporaneo.